Siamo a parlare di referendum. Hanno vinto i cittadini, ha vinto il popolo italiano, ha vinto la Costituzione, hanno vinto i padri costituenti. Il popolo italiano ha risposto in maniera straordinaria, affluenza alle urne sopra ogni aspettativa. Quando si tratta di scegliere su qualcosa di alto, di molto importante, il popolo italiano risponde e non dà retta alle televendite. Abbiamo avuto un risultato strepitoso che riporta ai cittadini, alla loro sovranità, tutto quanto c'è da decidere. Basta con le oligarchie. Andiamo subito al voto, mandiamoli tutti a casa.